I pochi al Vanguio e le macchie hanno acceso le moto in Stagina, il fatto ci passiamo alla palana e andiamo a andare Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie per la conversazione Prego un po' Ok allora ci siamo, facciamo subito a cosa Vanguotera, prima, secondo stato per lui, di Propello, turno di Iadele Il codinello fa stato con noi anche Alex, intanto va che facendo per su, si sente sento, quindi comprensibile Il salto non lo coltre in te, non è stato fatto E adesso ci sarà ancora il cerdale, è scampato, adesso diremo anche con la musica, con la musica non appropriata Chi麥! Merdo! per portare a termine dei modi, loro soltanto devono stare più bravi per i mickey monti questo pilota è riuscita, sono dei quanti da un metro, già da un metro, è un metro in Italia ci stavano in realtà, pregando sempre da ogni appuntamento della busta, ancora bagno zero a questi io quanto amo questo sport quanto amo questo sport wow che ammigata si 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 as si si con il 6 ancora la 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 però loro è andato provando ancora la lunghezza oh, bagno d'era ma ecco, ci vediamo ancora proprio l'orizzonte tantissimo, vedi che maglissima stiamo toccando bagno e max e probabilmente stiamo a vedere stiamo a vedere con lo striccio per lui perché allora, voglio dire che il resto di vero vengono a fuzzi tu a fuzzi ragazzi ci vediamo a vedere bagno d'era e guarda mia specializzati a tecnici e adesso rai mi si muoge al tassacche